eccoci Mauro ultima puntata ultima puntata mi pare sia la settima di questa serie della crisi della chiesa della teologia siamo arrivati alla fine e mi pare che l'ultima puntata sarà impostata esclusivamente su alcune domande o obiezioni o quesiti che si pongono alla tesi che tu hai esposto nel video precedente direi che la mia opera in questo video finisce qua quindi ti lascio la parola penso che saranno 5 o 6 domande quesiti obiezioni no esatto perfetto che sono quelle più comuni non tutte tutte perché poi ce ne sono alcune che francamente sono anche cervellotiche ma quelle più che diciamo meritano una qualche risposta prego Mauro a te la parola grazie Elia intanto ti ringrazio per la collaborazione che abbiamo avuto e che allora si chiude si chiude oggi per insomma per l'annuncio che hai fatto tu quindi ci tenevo a esprimere il mio ringraziamento e accanto a tutto questo in sostanza anche a proposito delle obiezioni delle domande volevo fare presente che i video che noi abbiamo girato sulla crisi nella chiesa fino a in questo momento no fino a questo momento non sono completi e non possono trattare la tematica nella sua completezza sotto il video che riguarda il tema della successione papale ad esempio ho trovato tanti quesiti che richiederebbero puntate puntate e studi per essere approfonditi allora che cosa facciamo noi Elia rimandiamo direttamente a chiunque volesse approfondire la linea della tesi di Cassicciacom di Monsignor Gerardo Laurier rimandiamo direttamente al sito di Sodalizium su quale si possono trovare tutte le informazioni e anche eventualmente dei riferimenti telefonici o di mail per fare domande e insomma avere anche dei chiarimenti di coscienza se serve chiarimenti che sinceramente noi non siamo magari neanche in grado di in grado di dare o li possiamo dare solo fino a un certo punto perché come abbiamo detto più volte parliamo appunto da fedeli quali siamo ma non possiamo parlare assolutamente da da sacerdoti allora compito nostro sinceramente no esatto poniamo un problema esatto si danno si danno delle linee generali sul problema magari ci discute anche un po sull'entità ma chiaramente non è il nostro lavoro quello quello di entrare nei dettagli quello di un problema di coscienza che magari le persone si pongono adesso cosa devo fare cosa non devo fare queste robe qua esulano del tutto del tutto da da quello che facciamo noi sarebbe un'invasione di campo da parte nostra cosa che non vogliamo assolutamente fare poi ho visto qualche commento che insomma probabilmente qualcuno me ne scuserà ma qualcuno probabilmente commenta senza aver visto il video senza averlo visto tutto perché se tu vedi il video e certe domande non te le poni nemmeno insomma le risposte sono già contenute nel nel video si aggiungevo solo che questo in effetti l'ultimo è l'ultimo è l'ultimo video che faccio questo canale dopo non pubblicherà più niente dopo tolgo ma anche il mio annuncio perché è stato ampiamente visto va solo a disturbare la sequenza dei tuoi video quindi toglierò anche quello e si è una decisione molto meditata la rifarei sicuramente sono molto anzi sono ancora più convinto di quanto di quando l'ho deciso a te la parola con le risposte ai al tema che abbiamo affrontato in queste sei puntate finora guarda elia è prima in realtà di fare questo io sinceramente volevo anche un po adesso rispondere non ne vale neanche la pena perché mi sono arrivate non parlo dei commenti e dei video parlo di mail che sono aggiunte a me privatamente con scritti dei commenti alcuni anche proprio maleducati altri erano tra l'insulto e l'osservazione critica che per carità se uno fa un'osservazione critica ci sta l'insulto credo di no in nessun caso anche perché se c'è una cosa che non credo di aver mai fatto né nel canale della scuola di filosofia né in queste lezioni sia stato insultare e onestamente non credo che se neanche il modo di discutere però tra tutte queste chiamiamo le osservazioni critiche una che ho rinvenuto diciamo in più in più parti per così dire è il fatto che noi parlando di questi temi ci staremo ergendo a maestri dell'interiorità come dire stiamo giudicando la coscienza altrui l'abbiamo detto 800 volte 800 che soltanto dio conosce il segreto dei cuori non abbiamo fatto giudizio della coscienza di nessuno nessuno ci mancherebbe anche come possiamo come possiamo visto che salvo miracolo da parte di alcuni ad esempio il santo curato d'ars a noi non è dato leggere l'intenzione il segreto del cuore della persona però elia è anche vero che noi vedendo determinati atti che sono stati compiuti negli ultimi decenni possiamo da questo dedurre che ci sia qualcosa che non va a porci un problema e almeno questo possiamo farlo direi e anzi dovrebbe anche essere il nostro compito farlo e in sostanza la tesi di Cassicciacum diciamo è un modo per cercare di rimanere fedeli alla tradizione punto non abbiamo detto che c'è diciamo qualsiasi persona è pessima eccetera solo noi ma scherziamo persone commenti di questo genere io non li posso neanche neanche tollerare stiamo parlando di un problema e di un modo per rimanere fedeli alla tradizione fine della storia è un altro segno dei tempi anche questo è un altro segno dei tempi mail commenti di questo tipo insulti sono un segno dei tempi ed uno dei motivi per i quali ho deciso anche di chiudere il canale chiudere di non pubblicare più perché viviamo tempi veramente difficili in cui e non mi vergogno di dirlo lo dico anzi a testa alta in cui l'intelligenza è andata a farsi bene dire esiste il tifo esistono le prese di posizione esistono i pregiudizi esiste il voler dire la propria a tutti i costi anche su materie che magari uno non ci capisce questo è il segno dei tempi allora ripeto è una delle ragioni che mi ha portato a a dire non pubblico più niente poi ce ne sono anche altre comunque eh noi non abbiamo mai detto una cosa del genere fai bene a a ribadirlo abbiamo dato allora chi ti dà uno strumento eh ti dà uno strumento poi tu lo usi o non lo usi lo usi bene lo usi male è tutto là qualcuno ti mette a disposizione uno strumento ci ha messo tempo impegno la sua preparazione tutto il resto non sei d'accordo va bene non lo usi questo strumento lo userai come cavolo vuoi tu ma accusare chi ti mette a disposizione uno strumento mi sembra veramente un segno dei tempi ripeto un segno dei tempi di questi tempi confusionari l'abbiamo detto tante volte di questo tempo tempi molto ambigui un sentimentalismo che non è solamente all'interno della gerarchia della chiesa ma è diffuso anche tra i cosiddetti fedeli perché questa è la verità sto assistendo in questi giorni a dibattiti che francamente non sono nient'altro che 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 ambiguità sentimentalismo tra i fedeli però chiudiamo qua prego vai avanti perché se no ci ci distraiamo e non è il caso allora guarda elia e prendendo spunto sempre dal volume dall'opuscolo pubblicizzato la volta scorsa di pubblicizzato insomma è accennato presentato la volta scorsa di monsignor sambor noi andremo a trattare cinque obiezioni che sono le principali che normalmente vengono mosse alla tesi di cassicciacum e alcune di queste riguardano invece proprio domande che seriamente gli spettatori del video dell'altra volta hanno posto in maniera molto seria e con la volontà insomma di di approfondire allora andiamo subito a condividere lo schermo intanto questo è monsignor gerard de laurier però non era questo che adesso mi interessava volevo andare a parlare delle obiezioni allora eccola qua obiezione numero uno iniziamo l'obiettore potrebbe dire non appartiene ai fedeli sposto la finestra scusami non appartiene ai fedeli il diritto di accusare colui che sia stato eletto al papato di non volere il bene della chiesa solo l'autorità competente può esprimersi al riguardo quindi l'obiezione che viene fatta è non è vostra competenza dire se una persona in questo caso un papa eletto stia o meno cercando e volendo il bene della chiesa può esprimersi solo l'autorità competente non il semplice fedele allora che cosa possiamo fare che cosa possiamo dire a questo proposito la risposta si basa su dei distinguo è chiaro che questo diritto non appartiene dal punto di vista legale ai fedeli è chiaro perché i fedeli non rappresentano l'autorità deputata a prendere provvedimenti in tal senso questo è pacifico però appartiene ai fedeli dal punto di vista privato per così dire la tesi di cassi ciacum in altre parole non intende nessun caso attribuire ai fedeli diritto di accusa legale attenzione di accusa legale ma solo privato perché un giudizio privato comunque è sempre possibile anzi direi che diventa un certo punto anche doveroso confrontando le innovazioni conciliari con il magistero di sempre perché se noi andiamo a vedere quello che i papi hanno sempre detto su certi temi vedi per esempio il tema della libertà religiosa e poi lo confrontiamo con le innovazioni conciliari un problema di coscienza ce lo stiamo punendo e ponendo e questo riguarda diciamo il giudizio privato quindi anche a livello privato elia è impossibile a sentire a insegnamenti contraddittori come quello preconciliare e quello può sconciliare quindi non c'è nel fedele diritto di accusa legale però la possibilità del giudizio privato esiste e come e questa è una prima obiezione che non finisce qua perché non finisce qua perché l'ipotetico obiettore potrebbe insistere e siamo allora alla seconda obiezione e potrebbe accusarci di in qualche modo aderire alla mentalità protestante no è protestante passiamola così attribuire ai fedeli diritto di esaminare con giudizio privato gli atti e il magistero del papa o di un concilio perché uno dice beh anche lutero allora l'ha fatto e qual è la differenza tra il giudizio privato e l'atteggiamento in questo caso mostrato da lutero beh vediamo dobbiamo ancora una volta anche qui fare una distinzione importante non esiste non esiste il diritto ad esaminare tali atti quindi gli atti e il magistero del papa o di un concilio con giudizio privato per dare la possibilità al fedele di dissentire o meno da essi cioè non è che ci sia la possibilità di dare giudizio privato per dire questo atto va bene questo non lo accetto questo fa schifo eccetera eccetera non è quello l'obiettivo però è chiaro che nel caso in esame quindi magistero preconciliare e magistero conciliare il fedele di fatto è tenuto proprio perché c'è una contraddizione a operare un confronto fra il magistero preconciliare questo è quello può sconciliare perché perché la fede cattolica comunque è una non ci sono le fedi cattoliche storicizzate quella prima del concilio quella dopo il concilio la fede cattolica è una e le verità cattoliche di fede sono coerenti fra loro non possiamo frammentare la fede cattolica in più parti a seconda non so della regione del mondo del gusto degli atteggiamenti non è questo non è questo diciamo il punto se già noi non riusciamo a tollerare la contraddizione dal punto di vista naturale quando parliamo delle verità naturali delle verità scientifiche è chiaro che se ci sono due tesi ad esempio elia non lo so guarda faccio una piccola un piccolo esempio due tesi che si contrappongono l'universo è finito l'universo è infinito io dico l'universo sia finito che infinito è no un attimo o è finito o è infinito l'universo ha avuto in inizio nel tempo l'universo è eterno a io dico che l'universo ha avuto un inizio nel tempo però è eterno no un attimo sono due cose contraddittorie ecco già a livello delle verità naturali noi non accettiamo la contraddizione come facciamo ad accettare la contraddizione a livello di verità soprannaturale questo è il quesito ma non abbiamo finito non abbiamo finito perché su questa sulla scorta ancora di tutte le possibili osservazioni critiche eccetera l'obiettore potrebbe andare avanti e dire insisto ancora la predetta contraddizione sarà soltanto apparente quindi c'è una contraddizione a voi sembra che sia una contraddizione al fedele proprio perché si mette ad esaminare con giudizio privato in realtà questa contraddizione è solo apparente dato che il magistero non può entrare in contraddizione con se stesso come rispondiamo che è c'è un principio di non contraddizione è impossibile a sentire a norme che di fatto sono in contraddizione nel caso in esame uno stesso fedele non può contemporaneamente e questo dimostra che la contraddizione non è apparente esaminiamo i documenti ripeto del papa preconciliari e conciliari esaminiamoli vediamo cosa si dice sul tema della libertà religiosa e guarda che è un tema uno fra i tanti quindi non può un fedele a sentire contemporaneamente al magistero preconciliare e a quello post conciliare perché sono in contraddizione tesi fuori dalla chiesa non c'è salvezza antitesi fuori dalla chiesa c'è salvezza come facciamo a fare la sintesi su sta roba com'è possibile che chiaro ilia fin qua il il risulto ok allora andiamo avanti a spiegare la risposta questa è questa questa obiezione si basa sul presupposto che se anche c'è una contraddizione appare solamente non è nella sostanza esatto esatto in realtà la risposta dice no non è una sostanza non è una diciamo male il formalismo è proprio sostanziale anzi sarebbe proprio l'assenso contemporaneo a entrambi i magisteri preconciliare può sconciliare paradossalmente a far finire il fedele diciamo su una posizione di matrice protestante perché perché in questo caso il fedele sarebbe chiamato con la famosa ermeneutica della continuità a interpretare con giudizio privato i due magisteri allo scopo di renderli coerenti anche se di fatto non lo sono quindi forse questo atteggiamento ci avvicinerebbe più all'altra posizione che non l'atteggiamento invece di vedere una contraddizione e che c'è qualcosa che non va però ricorda monsignor bar sunborn che tutto questo alla fine finirebbe per distruggere la nozione stessa di magistero perché perché in questo caso i fedeli dovrebbero basarsi sul loro giudizio privato perdendo il motivo soprannaturale di adesione al magistero che è proprio la sottomissione al magistero laddove ovviamente però non ci sia contraddizione perché la contraddizione a livello di verità né naturale né soprannaturale può esistere che che ne dicano hegel e gli altri diciamo idealisti ottocenteschi vari è chiaro infine che se ai fedeli si concedesse facoltà di attenzione interpretazione non di giudizio privato di fronte a una contraddizione ma di interpretazione degli atti eccetera potrebbero cadere facilmente in errore ma scusa ma in questo caso mi pare che chi fa questa obiezione spinge per il fideismo cioè tu devi avere fede la ragione a lasciare stare è pure fideismo questo è sì sì ma ma la fede cattolica è tutt'altra che fideismo appunto abbiamo anche una ragione eh ma questa 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 obiezione si spinge in direzione del fideismo proprio in maniera evidente chiara cioè tu devi devi seguire e basta devi obbedire non porti domande non è non è tuo compito porti le domande obbedisci e basta anche se la ragione magari ti dice qualcosa di diverso tu non dare ascolto alla ragione eh vai in direzione del fideismo taci e obbedisci questo mi pare dica questa allora diciamo questo che al fedele è richiesta la sottomissione all'autorità ci mancherebbe la sottomissione al dogma eccetera ci mancherebbe quindi non è che io eh altrimenti rischieremo di finire in quei movimenti che hanno praticato lo sisma io questo non lo accetto non mi va bene in questo caso ma in presenza di contraddizione sì esatto è questo è questo questo è il punto questo è il punto però in questo caso il problema è che alla ragione e alla nostra ragione emerge una contraddizione c'è qualcosa che non va ripeto tesi tesi fuori dalla chiesa non c'è salvezza antitesi fuori dalla chiesa c'è salvezza che facciamo che facciamo tesi la vera fede è quella cattolica antitesi ma anche le altre fedi sono vere portano la salvezza danno la grazia eccetera che che facciamo cosa facciamo andiamo avanti adesso arriva un tema abbastanza delicato che è la quarta obiezione sentiamo cosa dice l'obiezione se chi pubblicamente si allontana dalla fede rinuncia tacitamente al proprio ufficio quindi io mi allontano dalla fede insegnando le innovazioni conciliari eccetera quindi tacitamente è come se mi allontanassi dal mio ufficio che è quello di insegnare insomma la verità la fede eccetera eccetera come stabilito dal diritto canonico allora un pontefice conciliare non può essere pontefice né materialmente né formalmente quindi questa obiezione dice la tesi di Cassicciacum non puoi avere un papa che sia papa materialiter e non formaliter quindi se uno si allontana in maniera evidente dal magistero di sempre quindi dai doveri del proprio ufficio quindi la difesa della verità fino alla morte non la captatio benevolenza del mondo allora uno non può proprio essere pontefice da nessun punto di vista quindi neanche sotto il punto di vista dell'elezione quindi della pura materialità credo che quindi l'obiezione sia molto molto chiara vediamo la risposta allora la risposta è abbastanza articolata qui ne vediamo ti dico subito e lì ha solo una parte poi dovrà essere sviluppata affinché se si verifichi una tacita rinuncia al proprio ufficio l'imputabilità di defezione dalla fede quindi accusare legalmente ufficialmente una persona come potrebbe essere un papa di aver di essersi allontanato dalla fede l'imputabilità di defezione dalla fede deve essere pubblica non deve essere occulta quindi deve essere fatta un'imputazione ufficiale pubblica non tramite il giudizio privato cioè non basta che io e te lia diciamo che un papa non è papa il papa no no assolutamente assolutamente in altre parole la defezione dalla fede deve essere constatata legalmente tramite si dice in diritto canonica o una dichiarazione o per notorietà stiamo parlando di appunto di terminologia giuridica la notorietà la notorietà esige però che i fatti siano pubblici o meglio che siano pubblici il fatto del reato cioè che sia stato di fatto commesso reato deve essere una notizia pubblica ufficiale e l'imputabilità del reato quindi Mario Rossi ha commesso un reato e adesso viene imputato di aver commesso quel reato a livello ufficiale no ah ma secondo me no no stiamo parlando di una procedura giuridica essere presenti il reato e il reo diciamo tutti e due no sì ma attenzione il reato imputato da colui che possa che abbia diciamo l'autorità di imputazione del reato e che tra l'altro venga fatto tramite una procedura legale giuridica benone l'imputabilità di defezione dalla fede inoltre per scisma o eresia richiede che questa defezione altro punto importante sia pertinace pertinace quindi quindi chi ha proferito un'eresia per esempio non solo deve essere reso consapevole di averla proferita ma non deve neanche ritrattarla deve dire no no so che è un'eresia ma io rimango su quel piano allora a quel punto potrebbero esserci tutte le conseguenze quindi defezione pertinace perché altrimenti giustamente fa notare Monsignor Sarborn si avrebbe un caos tremendo pensiamo ad esempio che a un sacerdote che durante un'omelia parlando della Santissima Trinità sai che se parliamo della Santissima Trinità e sbagliamo una virgola rischiamo in maniera non voluta e sia chiara di cadere immediatamente in un'eresia un sacerdote che durante un'omelia magari per semplificare un po' ragionamento esprimesse involontariamente un'eresia sarebbe già reo di eresia notoria con perdita tacita dell'ufficio se chi fa l'obiezione avesse ragione allora bisognerebbe avere veramente paura di fare qualsiasi omelia invece può accadere che uno involontariamente non dovrebbe succedere ragazzi può succedere che uno commetta un errore ma l'errore è voluto è cosciente la persona che ha proferito l'errore è stata resa cosciente di questo fatto si ostina a rimanere in questa dichiarazione questo è il quesito credo che sia abbastanza abbastanza chiaro è molto chiaro quindi 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 l'imputabilità notoria richiede che chi esprime l'eresia riconosca pubblicamente di professare una dottrina contraria al magistero come fece l'utero perché l'utero non fu forse richiamato ma ci mancherebbe non solo richiamato ma si andò anche oltre dopo un ammonimento da parte dell'autorità ecclesiastica l'utero rifiutò pubblicamente l'autorità ecclesiastica stessa e difatti fece il suo il suo scisma però fu richiamato fu richiamato ci fu un ammonimento ufficiale ci fu la scomunica eccetera eccetera ora tutte queste predette concezioni condizioni chiedo scusa non si verificano non si verificano nel caso dei pontifici conciliari non si verificano per cui non è vero che un pontefice anche il più conciliare possibile non possa essere pontefice né materialmente né formalmente che quindi alla elezione legale stessa venga invalidata assolutamente no questo l'abbiamo già detto la volta scorsa ma lo ripetiamo si oppone risolutamente alla cosiddetta posizione del conclavismo secondo la quale le persone private delle persone private potrebbero nelle attuali condizioni della sede apostolica procedere loro stesse a un conclave per eleggere un nuovo pontefice questo non possiamo farlo perché è ora di finirla con quella obiezione io qua non ne parlo però cioè non approfondisco ah se uno pensa a questo aderisce la tesi allora dovrebbe di conseguenza procedere all'elezione di un nuovo papa ma stiamo scherzando ma stiamo scherzando non regge non regge e qui io elia mi permetto mi permetto di prendere una lunga citazione non l'ho riportata ma la riprendo direttamente da uno degli degli opuscoli di don francesco perché ci fa un un esempio un esempio per spiegare e precisamente l'opuscolo è del 1999 riferito alla tesi di cassiciacum verrua savoia centro librario sodalizium don paladino e la tesi di cassiciacum il titolo dell'epuscolo che ho rinvenuto adesso è quello allora cito testuali parole per loro conosco ecco io credo che sia che sia molto 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 esplicativo come esempio un esempio tizio uccide caio ora l'omicidio di un innocente è materia di peccato se tizio uccide caio involontariamente e incolpevolmente il peccato è solo materiale se lo fa volontariamente e colpevolmente il peccato è formale tizio è formalmente un assassino posso però dichiararlo tale evidentemente no a meno di una confessione spontanea tizio deve essere presunto innocente fino a che un tribunale non dimostri la sua colpevolezza sia quanto al fatto cioè ha ucciso sia quanto al dolo voleva uccidere la volontà esatto allora e solo allora posso dichiarare tizio un assassino senza rischiare di essere denunciato per difamazione naturalmente posso personalmente essere colpevolista posso anche avere delle prove per me sufficienti della volontarietà di quell'omicidio e prendere le dovute precauzioni ma non posso dichiarare legalmente alcunché per il delitto di eresia le cose sono analoghe perché perché un papa può esprimere una proposizione contraria al magistero della chiesa su di una dottrina rivelata egli in questo caso è almeno materialmente eretico se gli non è cosciente di rifiutare il magistero della chiesa perché pensa ad esempio di essere lui stesso il magistero della chiesa ed è convinto di poter conciliare le sue opinioni con quanto la chiesa ha insegnato precedentemente allora è eretico solo materialmente nel caso contrario è eretico anche formalmente si può di già dichiararlo tale evidentemente no a meno di una confessione spontanea che non c'è stata vi è legalmente una presunzione di innocenza nel senso che non vi è certezza che egli si opponga coscientemente al magistero della chiesa e questo è il ruolo delle munizioni canoniche dice giustamente io credo che questa citazione sia importante don francesco rifiutando queste ammonizioni che gli segnalano con l'autorità della chiesa che le sue detrine si oppongono al magisterio ecclesiastico egli manifesta la sua pertinacia che magari esisteva già precedentemente ma che non era evidente e può essere dichiarato eretico formale riassumendo le munizioni canoniche non sono necessarie per essere pertinaci e commettere il peccato di eresia ma sono quasi sempre necessarie per poter accertare e dimostrare e ancor più dichiarare e punire tale pertinacia e tale eresia direi che il l'esempio sì qua entriamo entriamo più nel tecnico e così volessi spiegare insomma anche nel diritto penale c'è il preterintenzionale c'è il colposo c'è il doloso c'è il certo ci sono le aggravanti e le attenuanti cioè insomma è un sistema che serve comunque ad essere quanto più giusti possibile nella nella sentenza tutto qua se io non capisco la differenza fra un preterintenzionale e un premeditato c'è a livello di volontà però preterintenzionale va al di là della della volontà è premeditato addirittura la volontà ben programmata pianificato pianificato tutto colposo non c'è vabbè lasciamo stare voglio dire anche queste cose sono oggetto sono state oggetto di 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 analisi quindi tu stai spiegando che non si arriva facilmente a delle conclusioni no c'è tutto c'è tutto un un diritto anche canonico da rispettare io sono esatto noi stiamo stiamo dicendo e li ha che quando è stata formulata la tesi e poi è stata studiata approfondita nel corso del tempo non è che sia stata un così due principi buttati giù la sera e c'è uno studio c'è il diritto canonico c'è una procedura giuridica quindi voglio dire è la situazione è stata analizzata è stata vista nel dettaglio perché c'è chi praticamente semplifica magari o crede di aver capito la tese semplicemente la cantona diciamo con le solite obiezioni conclavismo eccetera assolutamente no c'è tutto uno studio dietro d'accordo si diceva apposta quindi sono d'accordissimo sono d'accordissimo con te ok prego poi c'è l'altra obiezione classica 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 non può esistere materia senza forma la materia del papa non può esistere senza la forma del papa è un momento però qui bisogna conoscere anche la terminologia tomistica allora vediamo un po dobbiamo stare attenti ai concetti è vero che non possa esistere in atto la materia prima senza la forma sostanziale ci spiega santo mario che il santo maso che la materia prima che è pura passività pura assenza di di forma non può esistere in atto di fatto non esiste la materia prima quindi riceve la forma sostanziale per dare vita a un ente di per un ente per sé questo però attenzione attenzione non implica che un ente per sé costituito non possa esistere senza determinati accidenti esempio l'uomo un uomo che è composto da materia corpo e forma sostanziale che è l'anima esiste come ente un per sé d'accordo ma non è che è necessario che sia per dirti un magistrato o un avvocato che questi sono tutti degli accidenti che possono esserci come no e non è che l'esserci oppure no faccia di quella di quell'uomo meno uomo o più uomo stiamo parlando di accidenti quindi sostanza e accidente d'accordo questo è tanto per fare una presa l'abbiamo detto tante tante volte anche nello scorso nelle negli scorsi negli scorsi video dobbiamo ricordare che l'unione di materia prima e forma sostanziale genera quel composto che santomaso chiama o gli scolastici meglio ancora chiamano la materia seconda questa materia seconda poi può ricevere determinati accidenti o forme accidentali uno di questi accidenti è l'autorità papale che può esserci come anche no ora materia seconda e forma accidentale quindi l'ente un per sé composto e un determinato accidente sono distinti quindi lo ripeto materia seconda e forma accidentale sono cose distinte e peraltro anche separabili la sostanza può esistere senza un certo accidente vediamo allora al tema nostro la designazione alla carica del papato genera in chi la possiede un diritto all'autorità ma attenzione poi questa autorità è un accidente questo diritto all'autorità è un accidente è un accidente di una cosa che può esserci come anche pertanto pertanto un uomo può possedere la designazione senza possedere l'autorità nello scorso video penso abbiamo parlato in maniera molto molto diffusa di questo di questo tema un papa può essere capo della chiesa materialmente anche senza esserlo formalmente ma deve comunque essere un membro della chiesa a dispetto degli errori chi è stato battezzato nella chiesa ed erra in buona fede quindi chi è stato battezzato nella chiesa è membro della chiesa ma erra erra in buona fede continua a permanere un membro della chiesa finché non smetta di esserlo per eresia notoria e pertinace scisma notorio e pertinace scomunica eccetera eccetera quindi vale anche per il fedele tutta la dottrina che abbiamo tutto scusami tutte le le discorsi attinenti alla parte giuridica che abbiamo fatto finora come abbiamo detto in precedenza però la pertinacia di chi sostiene le innovazioni conciliari non è dichiarabile non è dichiarabile perché non c'è stata non c'è stata di fatto questa pertinacia il presente discorso peraltro non ha niente a che vedere con il fatto di aver ricevuto validamente o no un sacco il sacramento dell'ordine no no non stiamo parlando di questo stiamo parlando di occupazione di una sede in questo caso questa stessa occupazione garantisce la visibilità della chiesa materialiter ma non formaliter quindi che la chiesa che la sede apostolica sia occupata materialiter questo sì formaliter questo è un altro discorso questo è un altro discorso e allora in attesa che questa situazione nella quale stiamo vivendo possa divenire una soluzione non sappiamo i tempi e noi non sappiamo assolutamente nulla di tutto questo tutto nelle mani del padre eterno il fedele deve continuare a pregare senza sosta deve trovare i veri sacramenti deve trovare i sacramenti perché bisogna vivere anche grazie ai sacramenti non bisogna lasciarsi scoraggiare anche se lasciarsi scoraggiare nel mondo che ormai sta andando alla deriva ma non sono sul piano della fede ma praticamente ovunque sarebbe molto facile anzi è molto facile e posso anche dire elia che i momenti di difficoltà e di abbattimento credo non non siano mancati a nessuno in un periodo come questo almeno a chi avesse veramente la volontà di rimanere fedele a una determinata a una determinata dottrina però dobbiamo anche essere consapevoli questo mi permetto di dirlo del fatto che comunque dio sorveglia la storia l'ha sempre fatto e sempre lo farà guardiano onnipotente che non permetterà mai che il male trionfi perché che cosa ci ha sempre detto nostro signore che le porte degli inferi non prevarranno quindi stiamo vivendo una situazione veramente di caos di dramma di difficoltà enorme altri l'hanno vissuta ricordiamo sempre quindi non andiamo a dire ah ma solo noi nei secoli ma non facciamo questi discorsi non facciamo questi discorsi perché scusa elia adesso è anche il caso di dire i martiri dei primi secoli che venivano distrutti fisicamente proprio con tutte le torture possibili leggendo il martillo roggio nei primi secoli del cristianesimo perché loro avevano la vita più semplice loro anche di recente voglio dire sono accadute cose ma la rivoluzione francese la guerra civile spagnola il messico la rivoluzione bolshevica e ma io citerei anche i cristiani che in questo momento vengono comunque uccisi in giro per il mondo del quale non ci interessa nulla nel senso che anche quando si parla di guerre ne abbiamo in mente una ma io leggevo uno studio in cui si faceva vedere come allo stato attuale se non sbaglio nel mondo ci sono una cinquantina di guerre sangue che viene versato c'è veramente i drammi i drammi ci sono quindi è un momento oggettivamente difficile però io non mi farei prendere neanche da quel vittimismo a solo noi un secolo fa si stava meglio se noi per come siamo ormai diventati mollaccioni diciamolo pure mollaccioni viziati perché siamo viziati pieni di strumenti di comodità retrocedessimo di un secolo con una macchina del tempo per andare a vivere come vivevano i nostri bis bis nonni all'inizio del novecento registreremo un quarto d'ora te lo dico io sei ottimista sei ottimista ecco con il bagno il bagno fuori casa andiamo a vedere nei paesi come si viveva un secolo fa ci vuole una tempra che noi oggettivamente non abbiamo più non abbiamo più quindi quando sento dire ah siamo nati qua però sarebbe stato meglio ragazzi è negli anni 40 c'era la guerra andavo lenar ti bombardavano la casa non potevi neanche ma stiamo scherzando a la prima parte del novecento c'era la prima guerra mondiale saresti stato al fronte a 18 anni saresti stato al fronte quindi guarda elia io ti dico scusami questa verba un po non è però sono dei banalismo il tuo è un atto di realismo ogni tanto ci vuole qualche atto di realismo altrimenti si perde veramente la lettura della situazione no io scoraggiare mai non è una questione di scoraggiare è questione di certe cose non è il caso di farle certe altre no ma su quello è una questione su quello è una questione di scelta ma scoraggiarsi no assolutamente scoraggiarsi vuol dire non avere fede sostanzialmente detto in maniera molto molto elementare molto succinta molto cruda però mauro una domanda io te la devo fare la risposta non sarà tua sicuramente però noi abbiamo fatto questa carrellata la la crisi nella nella chiesa e nella teologia e siamo arrivati poi alla tesi di casticiacomo che ha preso un problema enorme enorme che quello dell'autorità e l'ha messo sul tavolo ha offerto uno strumento per una chiave di lettura in modo tale che ciascuno si possa fare la sua idea ma in base alla tesi di casticiacomo in realtà a partire da quando i papi sarebbero papa materialmente ma non formalmente perché anche su questo però e c'è una grande confusione non è vergoglio non è vergoglio cioè no preciso non è rispondo rispondo subito ecco allora è un punto d'inizio genericamente viene individuato nella data del 7 dicembre 1965 documento conciliare dignità tis umane quelle viene quello viene preso come un punto di inizio d'accordo dell'occupazione materialiter sed non formaliter quindi 7 dicembre 1965 purtroppo poi le cose sono andate avanti si sono sviluppate sono degenerate hanno acquisito maggior visibilità in alcuni casi un po minore apparente visibilità ma le cose ci sono sempre state si sono portate portate avanti per cui anch'io concordo con te il caso di dire che non è che sia una situazione degli ultimi anni non è che sia una situazione degli ultimi anni va avanti come abbiamo detto da qualche da qualche decennio d'altro canto è anche vero è anche vero che c'è stato insegnato che l'albero si vede dai frutti è l'albero si vede dai frutti a non ci sono più vocazioni ma ci siamo fatti una domanda ci siamo fatti una domanda a a messa non va più nessuno è infatti una domanda non prega più nessuno ci siamo fatti una domanda i ragazzi non conoscono il catechismo i comandamenti non sanno cosa sia rosario bene ci siamo fatti una domanda su tutte considerazioni reali però la domanda è perché cioè perché per quasi duemila anni quasi quasi duemila anni comunque la fede è andata avanti poi d'improvviso è stato questo distacco questo raffreddamento non che in altri secoli non ci siano stati reazioni sia chiaro contro come vogliamo chiamarle scusa reazioni diciamo contrarie alla fede ma ci mancherebbe però il fedele aveva una base su cui fondarsi il fedele aveva un riferimento il fedele pur nella solitudine della vita civile anche nell'anda più dispersa sapeva di avere un riferimento sapeva d'improvviso è successo qualcosa ma voglio dire è una cosa che va avanti da decenni io direi anche in alcuni casi da 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 secoli da secoli da secoli perché comunque movimenti eccetera si sono sviluppati anche all'inizio del novecento san pio decimo che papa santo che ha dato tutto per lottare contro il modernismo tutto tutto ha dato cuore anima intelletto tutto quello che poteva sapeva benissimo che con la sua pascendi in realtà non è che avesse debellato il modernismo come qualcuno gli diceva cioè sapeva benissimo che comunque in sottofondo occultamente le cose stavano andando avanti lui ha fatto quello che è stato possibile fare tutto quello che è stato possibile fare papi successivi anche finché ad un certo punto signori quindi 7 dicembre 1965 papa paolo sesto ed allora si è andato avanti su questa rottura con la tradizione sempre più evidente 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 nessuno dei papi successivi ha invertito questa tendenza e quindi sono andati avanti tutti nella stessa direzione diciamo deviata che è partita dal 1965 questo per chiarezza non è un'idea nostra non è un'opinione nostra ci mancherebbe altro non siamo noi che ci erigiamo a giudici ma per l'amor del cielo per l'amor del cielo se uno vuole se uno vuole può prendere anche questo video e buttarlo nel cestino se uno vuole può anche dire che siamo magari scemi no però che siamo degli ingenui che siamo degli incapaci bon ok ci sta ma non è questo non è questo il punto non sono risolvere comunque il problema capisci esatto non risolve il problema perché a me uno può anche dare del deficiente ma non è che il problema si è risolto perché io sono deficiente esatto cioè dandomi dell'idiota il problema non è non è risolto il problema permane e fra l'altro ultima cosa giusto per ripadire quel 7 dicembre 1965 non viene fuori dal nulla nel senso non è una cosa che esplode così ecco certo è già più già già se il più decimo l'ottava contro il modernismo si era capito esattamente quello che stava succedendo quindi è chiaro che la cosa partì da lontano fu premeditata per usare un linguaggio sempre giuridico quindi non avvenne per caso per errore non avvenne sì ma poi ma poi andiamo a leggere lione tredicesimo le preoccupazioni che aveva la visione che ha avuto della chiesa in base dai cioè voglio dire ancora prima ancora ancora prima va bene mauro e se non c'è altro io direi di chiudere qua e c'è una domanda che io mi pongo da tempo tu so che non ami che vengano dette queste cose ma io le dico lo stesso cioè io mi stupisco come una persona con la tua preparazione non ricopre una 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 cattedra universitaria questo è un grande mistero io non l'ho mai capito mi auguro te lo auguro che prima o poi accadrà meglio prima che poi perché sarebbe ampiamente meritata poi a me io ho fatto con piacere questi questi video con te che non si pensi che il canale perché non siamo d'accordo assolutamente queste sciocchezze io con il canale per ragioni mie qualcuno l'ho detto in questo in questo video e altre no eh ti ringrazio comunque di questa di questa collaborazione in questi video rimarranno tutti rimarranno tutti ritengo che siano dei video importanti ti ringrazio ancora una volta e ti auguro quello che ti ho detto prima grazie Elia grazie un saluto a tutti grazie ancora Elia a prestissimo